Due sono stati gli eventi importanti che hanno caratterizzato la giornata martedì del sindaco di Cirignola, Franco Vetta. Il primo in mattinata con la visita istituzionale a Palazzo di Città del Vescovo della Diocesi di Cirignola, Ascoli Satriano, Monsignor Felice di Volvetta, che è incontrato in aula consigliare giunta e dipendenti comunali e poi si è intrattenuto privatamente per alcuni minuti con il primo cittadino nel suo iccio, ricambiando la visita fatta in Diocesi dallo stesso qualche giorno dopo la sua elezione. Altro evento della giornata sono state le nomine per ciò che concerne il Consorzio di Igiene Ambientale Vaccino Foggia 4, vicepresidente e il sindaco di Orsanova Tarantino, mentre alla direzione generale è stata riconfermata Monica Benante.